Ecco come ha festeggiato e quali sono state le prime parole per la vittoria alle europee di Matteo Salvini, il leader della Lega. Dopo aver baciato il crocifisso di un rosario, commenta così i risultati della Lega alle europee e rassicura gli alleati del Movimento 5 Stelle che non chiederà poltrone. La politica del governo però è destinata a cambiare. Quindi a urne chiuse si può ringraziare a cuore aperto senza essere accusati di voler strumentalizzare. Dice ringrazio chi c'è lassù e non aiuta Salvini e la Lega ma l'Italia e l'Europa a ritrovare radici, sicurezza e futuro. Così Matteo Salvini, dopo aver baciato il crocifisso di un rosario come fece all'ultimo comizio di campagna elettorale, commenta così i risultati della Lega alle europee, dalla sua sede del partito di Via Bellerio a Milano. La festa dura pochi minuti perché è il momento delle responsabilità, ha subito detto, confermando la volontà di non voler rompere con il Movimento 5 Stelle. Da Ministro dell'Interno ho vissuto questa campagna elettorale con passione e con orgoglio, con attacchi quotidiani, vergognosi e insulti. Però la vita reale è più forte degli attacchi virtuali. Usiamo questi consensi con regolamenti di conto interni. Gli alleati di governo per me sono amici, dice Salvini, che ora conta di riprendere in mano e completare tutti i temi del contratto rimasti in sospeso. Ora il leader della Lega batterà i pugni sulla riduzione delle tasse, l'autonomia, il decreto sicurezza, le grandi opere bloccate, lo sblocca cantieri, il decreto famiglia, il decreto per i disabili. Un discorso che è stato preceduto da un brindisi fatto insieme al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, al Ministro della Famiglia, Lorenzo Fontana, quello dell'istruzione, Marco Bussetti, e al Presidente della Commissione Bilancio della Camera, Claudio Borghi, e al Capo della Comunicazione Leghista, Luca Morisi. Dalla finestra dello studio di via Ballerio compare una statuetta di Alberto da Giussano, simbolo della Lega, esposto in bella vista e portata da Giorgetti, che l'ha posizionata accanto a un uovo di Pasqua targato Milan e alla sua bandiera dei quattro mori, issata sopra una polpetta. Ogni voto che abbiamo preso non sarà usato per chiedere mezza poltrona in più all'Italia, ma per salvare e cambiare l'Europa, ribadisce Matteo Salvini. Il mio avversario era e rimane la sinistra. Gli alleati di governo per me sono amici con cui si torna a lavorare serenamente, abbassando i toni, dice Salvini, che si è letto orgoglioso che la Lega sia partecipe di questo nuovo rinascimento europeo. È un successo incredibile, non so quello della Lega in Italia, non solo quello della Lega in Italia. Marine Le Pen è il primo partito in Francia, Farage è il primo partito in Gran Bretagna, quindi Italia, Francia, Inghilterra, è il segno di un'Europa che cambia. Si è stufata dell'Europa serva, dei poteri forti, conclude il Ministro dell'Interno.